Ciao a tutti, oggi sono con Clarissa, lei è italiana, ho un dolore molto forte qui in basso a sinistra C'è un punto specifico? Quale? Proprio qua, e chi mi fa male ogni volta che faccio torsioni Every time she twist, every time she make a roll of the body, yes, and touch, you feel the, you senti il dolore Sento il dolore e in generale nella schiena perché anche un po' di scoliosi Ok, questo è il problema, proprio lì a sinistra, vediamo di sbloccarlo adesso e mi dici dopo come di senti We'll see the feedback after the treatment Piegati in avanti, brava, scendi giù It's interesting because it's going upward here, the thumb on the right, it means there is a compensation on the right And she feels pain on the left, very interesting, bene, torna su Allora, partiamo da seduti, allora, rilassati e andiamo It's not the first time, she's already a passion of mine Let's go, ok, perfetto, tutto bene? Sì Andiamo, brava, perfetto Ok, ne facciamo una in più, lascia ancora più morbido, rilassa tutto, bravissima Ok, qui dobbiamo fare qualcosa in più Allora, aspetta, morbida, morbida, perfetto, rilassa, rilassa, ok Oh, we got it, perfect Bene, adesso sì, pancia in su e ci riposiamo Con calma, brava Benissimo, andiamo Partiamo proprio dalla destra Ruota da questo lato, con calma Stendi bene le gambe, bravissima Lascia fare a me Comoda, comoda Brava Abbandonati completamente, lascia cadere le gambe fuori, tutte e due, anche l'altra Brava, più rilassata che puoi Abbandona, abbandona tutto, abbandona tutto Più rilassata, abbandona, abbandona Brava Brava Perfetto Pancia in su e ci riposiamo Per be the most important Yeah, this one Turn the styling da questo lato Bravissima Brava Stendi bene le gambe Perfetto E partiamo da qua Lascia tutto morbido Perfetto Perfetto Brava Brava Lascia cadere le gambe Abbandona tutto, rilassa tutto Ancora una, ce la fai? Sì Faticoso? Doloroso Painful? Yes, painful Ok, let's change the technique Fa proprio male, eh? L'idea sinistra, sì Fai fare a me L'idea sta abbandonata Brava Ferma così Ti rilassi Comoda Brava Lascia tutto morbido Sì, sì, sì Lascia proprio cadere le gambe Ancora meglio Brava Allora Lascia cadere le gambe Anche l'altra Sì, sì Abbandona, abbandona Bravissima Fattibile Rilassa tutto Brava Mmm Faticoso Dettimi sì Andiamo Prova a lasciare completamente le gambe abbandonate Brava Ci sei rilassata? Bravissima No, no, no Non ti difendere Non ti difendere Se ce la fai rilassare di più Abbandona di più Brava, brava, brava Inspira Fuori l'aria Bravissima Rilassa, rilassa Oh, we got it Ci sei? Eh Faticoso Sì Va bene Pancia in giù Allora Destro Sì Tieni di forte Hold on tight to the edge Bravissima Tieni di bella forte lì Bravissima Comoda, comoda Morbida Perfetto Oh Perfetto Decisiona Bene Ancora una Oh Perfetto Fatto Bene Yeah Sto attesi Tra l'altro Relax Salito Brava Morbida Morbida Abbandonati Fuori l'aria Brava Benissimo Fuori l'aria Brava Ci siamo Brava Già già che ci siamo Testa di qua con calma Bravo Bene I need your help Because She is very stuck here So it's not a Common second Yeah Lascia giù Rilassata Brava Adesso Andiamo a fare Delle spinte forti Qui Va bene Tu non ti spaventare Rilassati Giro la testa di qua A sinistra Brava Ok È proprio bloccato Ok Se hai fastidio Lo dici Sennò tu prova a rilassarti Completamente Sopportabile Maggiore a sinistra Ma vai bilaterale Ok Come va? Adesso bene Bene Prova a rilassarti Al massimo Brava Ok Prima pausa Eh meglio già Ok Pronti? Di nuovo Bene Quasi Ok Bene Grazie Giulia Alla grande Grazie a voi Attenzione bravissima Grazie eh Molto bene Sì Ci siamo Brava Perfetto Perfetto Come va? Bene Sono impegnativo eh Solleva la testa Giù E ti rilassi Comoda comoda Adesso Dormi Non pensare a nulla Ok E andiamo Più rilassata che puoi Brava Perfetto Perfetto Ok Ci sei? Sì Riprendi dietro lo shock Sì E c'è un piccolo shock Bellissimo Bello eh? Sì Ok Shock Ma No So Siamo Vediamo il feedback Si Sceglie Unlock E un lighter proviamo si sbloccata molto da questa parte si prova un po in piedi perché ho fatto anche l'arca leggerezza si tanta molto meglio veramente si bello buono grazie senti sia lo sblocco che la possibilità di muoverti assolutamente si passa allora mission accomplished ok facciamo solo i nostri amici 321 ciao a tutti